29 novembre 2012, l'autorità nazionale palestinese diventa stato osservatore ONU. Nel settembre 2011 Abu Abbas, presidente dell'autorità nazionale, aveva presentato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istanza di ammissione come stato indipendente, ma gli Stati Uniti posero il veto. Per riparare al fallimento, Abbas fece allora richiesta di riconoscimento implicito dello stato palestinese da parte dell'Assemblea Generale ONU, presentando una bozza di risoluzione che richiedeva che lo status della missione, già ufficialmente denominata Palestina, venisse promossa da osservatore permanente a stato osservatore non membro. Dopo l'approvazione, con 138 paesi favorevoli, 9 contrari e 41 astenuti, avvenuta il 29 novembre 2012, la nuova designazione, pur di rango inferiore alla piena adesione alle Nazioni Unite, consente ai palestinesi nuovo accesso a organismi e trattati internazionali che ne accrescono i finanziamenti. Nell'aprile 2015, inoltre, lo Stato di Palestina è stato ammesso alla Corte Penale Internazionale.